La picchiava da anni, continui maltrattamenti fisici e psicologici. All'apparenza una coppia normale di trevigiani sposata da tempo, 44 anni lei, 47 lui, entrambi impiegati. Ma dentro le mura domestiche si nascondeva una terribile verità. Una storia fatta di sopprusi, minacce, anche di morte, botte, violenze, spesso per futili motivi. Come è accaduto ieri sera, la cena non era piaciuta e così il marito padrone ha iniziato a picchiarla. La donna nel tentativo di scappare alla sua furia è scesa in strada. Lui l'era in corsa mentre lei chiamava il 113. In quartiere San Zeno in pochi minuti sono giunte le volanti. Ci siamo trovati di fronte questa donna che era ancora inseguita dal marito che ha usato precedentemente violenza, l'ha aggredita fisicamente provocandogli diverse contusioni. Sei una buona a nulla, non sei capace di fare niente, ti uccido. Queste le parole che il 47enne urlava alla moglie. Ci ha raccontato che il malumore manifestato dal marito era partito dalla cena e di come era stata preparata la cena dalla moglie. I maltrattamenti andavano avanti da tempo. Già due anni fa la 44enne lo aveva denunciato ma poi aveva ritirato la querela perché il marito le aveva promesso che non avrebbe più alzato le mani. La pace però era durata poco e soprattutto negli ultimi mesi la situazione era precipitata. Aveva subito diverse violenze in particolare negli ultimi sei mesi e in alcune occasioni precedenti si era rivolta al pronto soccorso però non aveva avuto il coraggio di dire la verità. L'impiegato 47enne è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari in casa di parenti.